Ci troviamo presso la sede della ex biblioteca di Pordenone in Piazza della Motta, questo sarà il centro di raccolta per il censimento di Pordenone. Oggi è iniziata la raccolta, dalle 13 alle 18.30 tutti i giorni dalle lunedì al venerdì e il mattino fino alle 12.30 il sabato sarà aperto il centro di raccolta per supportare i cittadini che vorranno compilare il questionario del censimento. Le modalità di consegna sono duplici, ci sarà la possibilità di consegnarlo presso il centro di raccolta dove ci troviamo oppure consegnarlo già compilato presso gli uffici postali o la cosa che noi preferiamo è la compilazione tramite il sito internet dell'Istat che ci permetterà anche di non dover poi ricontrollare i questionari ed eventualmente richiamare il cittadino successivamente. Questa mattina abbiamo avuto qualche intoppo che comunque abbiamo gestito perché molti cittadini ligi al dovere si sono presentati presso il centro di raccolta per la compilazione, abbiamo spiegato loro che si apriva nel pomeriggio e diciamo che abbiamo avuto la comprensione. Ricordo anche che c'è tempo fino al 20 di novembre per la consegna per cui non c'è urgenza di consegnarli, i questionari che non verranno riconsegnati ci saranno i nostri rilevatori che poi si recheranno presso le abitazioni a dare una mano alla compilazione.